In Toscana la politica viaggia sui binari di una sfida che assurge a comporre il nuovo quadro del Partito Democratico. Renzi Rossi si preannuncia come la sfida principale per le eventuali primarie interne che sceglieranno il candidato premier. Lo si capisce anche da un sondaggio realizzato da scenari politici Wimpole per Huffington Post che ha testato 500 casi rappresentativi di elettori PD sul nome che preferirebbero come candidato premier. Le percentuali che ne emergono sono estremamente rassicuranti per Renzi, 52%, ma sorprende che il secondo in ordine di gradimento sia proprio il governatore della Toscana Enrico Rossi che si assesta sul 12,7%. I tempi sono lunghi e tutto può succedere, ma è probabile per chi segue le vicende politiche in Toscana che ci saranno novità importanti nel prossimo futuro. Di certo l'idea di Rossi è quella di una sinistra più vecchio stile che magari attragga pure l'elettorato di sinistra italiana, oggi acerima nemica di Renzi. Eppure, in un periodo in cui l'offesa è stata ai noi quasi completamente sdoganata sui social network, anche tra le fazioni politiche, due storici nemici hanno voluto dimostrare che ci può essere anche contesa senza offesa. È stato un post di Gianni Gianassi, ex sindaco di Sesto Fiorentino e Deus ex machina della vittoria di Falchi alle ultime elezioni, a portare la notizia che il premier uscente Matteo Renzi ha voluto inviare proprio a lui una lettera di saluto. Ieri una gradita sorpresa, ha scritto Gianassi su Facebook, raccontando come una telefonata proveniente dalla presidenza del Consiglio dei Ministri, abbia annunciato l'arrivo di una lettera in cui Gianassi ha trovato un biglietto scritto da Matteo Renzi e insieme ad esso una fotografia. L'ex sindaco di Sesto racconta l'antefatto, ovvero che quella foto era stata inviata dallo stesso Gianassi a Renzi nel 2014, quando il primo aveva chiuso il suo mandato di sindaco. La foto ritrae un momento del 2005 in cui Renzi era presidente della provincia. In tutta la confusione della crisi e le problematiche di un trasloco non per fine mandato, Matteo ha avuto un pensiero gentile ed affettuoso verso uno che non gli ha fatto né gli fa politicamente alcuno sconto, ha scritto ancora Gianassi, che poi continua Sono e resto suo avversario politico e a causa delle sue politiche che ho lasciato il partito che avevo fondato, ma come ho sempre sostenuto, franchezza e lealtà non inclineranno i rapporti fra le persone, quanto subalternità e piageria. Un gesto che non significa niente se non che la competizione politica può essere anche aspra, ma il rispetto è e rimane un valore fondamentale al di là di qualsiasi posizione. Questo è il testo del messaggio scritto da Renzi. Caro Gianni, oggi gli scatoloni li faccio io e te la rimando indietro con un abbraccio Matteo. Poscrittum, che cosa meravigliosa è la politica. La Toscana ha una nuova legge sul turismo, meno burocrazia e guerra al lavoro nero sono i pilastri del nuovo testo unico approvato dal Consiglio regionale con 25 voti favorevoli, 11 contrari e 3 astenuti. La legge sostituisce quella ormai superata del 2000 e regolamenta un comparto che con 90 milioni di visitatori all'anno tra città d'arte, borghi e località balneari vale il 7% del pil regionale. Tra le novità previste dal testo, la possibilità per gli alberghi di avere negozi all'interno, la nascita di nuove strutture ricettive come i camping village e i cond hotel e la possibilità per i bed and breakfast di avere forma non imprenditoriale. E poi c'è il complesso capitolo degli affitti turistici che la legge inquadra con nuove regole precise. Ci è sembrato di sciogliere questo nodo correlando il numero degli alloggi, mi riferisco all'esercizio imprenditoriale delle locazioni turistiche, correlando il numero degli alloggi alla rotazione degli alloggi che abbiamo pensato di misurare col numero dei contratti. Una legge che per il Presidente della Regione Enrico Rossi garantisce una migliore registrazione delle presenze di visitatori in Toscana e che ha un orizzonte preciso. Credo che per il futuro noi abbiamo bisogno di favorire la nascita e il rafforzamento di una moderna impresa turistica, questo è il problema che abbiamo. Lo stiamo facendo con i fondi europei, ne abbiamo messo 10 milioni, sempre pochi, ma è quelli che abbiamo per la promozione del turismo. Ora si pensa anche a una giornata dedicata agli Stati Generali del Turismo che coinvolga istituzioni e operatori del settore per poter affinare in futuro le regole previste dal nuovo testo. Paura questa mattina a Barberino di Mugello. Una bambina di due anni è stata azzannata da un cane mentre si trovava in compagnia della nonna in Via della Repubblica. La piccola è stata trasportata con l'ali soccorso all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze a causa delle brutte ferite riportate sulla schiena e sul volto. Il fatto è accaduto intorno a mezzogiorno. Il cane, di razza Pitbull, si sarebbe avventato sulla bambina, poi soccorsa da un passante che ha tempestivamente chiamato i mezzi del 118. Stando alle informazioni fornite dagli agenti, il cane di grossa taglia è stato subito preso in custodia dai carabinieri che, poco dopo, hanno rintracciato il proprietario, residente anche esso a Barberino, che si è subito mostrato collaborativo riguardo alle indagini in corso. L'uomo ha infatti dichiarato che l'animale, regolarmente vaccinato e assicurato, era scappato qualche ora prima dal giardino della sua abitazione dopo aver scavalcato la recinzione. Adesso, come da prassi, sarà sottoposto ad alcuni esami di accertamento da parte del veterinario. La bambina, fanno sapere, non è in pericolo di vita. Dopo essere stata trasportata presso l'ospedale Meyer in codice giallo, le sue ferite sono fortunatamente apparse meno gravi di quelle diagnosticate sul posto dal primo soccorso. La nonna è invece stata trasportata all'ospedale dei Careggi per accertamenti. Grazie a tutti.